ragazzi e ragazze del country house san pietro vi aspetto il 5 giugno a teramo per la notte degli oscar 2015 sarò a cena con voi mi raccomando non mancate siate in tanti ma vi aspetto ciao a 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